Con lo slogan Esserci per la serenità dei piccoli, in uno dei più belli spazi disponibili sul territorio, la Fortezza Santa Barbara di Pistoia, si è svolta la festa del bambino e della sua salute. Un'iniziativa a scopo benefico realizzata dagli studi medici a Cobaleno e da Intervento Casa con la collaborazione del Comune per l'associazione No Profit a Cobaleno per la Vita. Le bizzerie del meteo, che a fine maggio continuano a proporre un clima da pieno autunno, hanno costretto l'organizzazione a ridurre a una le due giornate inizialmente previste. Le iniziative proposte sono state così per lo più, con l'eccezione di incontri in campo medico, tenuti comunque in un freddo e piovoso sabato, concentrate domenica, quando almeno parzialmente il metro è stato più clemente. Tra le antiche mura si sono così realizzate, visto il contesto con buona partecipazione di pubblico, le tante proposte della festa alla seconda edizione. Tra queste le animazioni garantite da clown, mascotte, truccatori per bambini, sempre popolarissimi e gonfiabili, affiancate da laboratori creativi, attività sportive con atleti, apprezzatissime dimostrazioni di dog agility, passeggiate con gli amati poni, esibizioni e lezioni aperte con una scuola di danza e altro. Il tutto a fine benefico con il ricavato destinato al reparto di pediatria dell'ospedale cittadino. L'intrattenimento è stato poi corredato da incontri con medici, dedicati alla salute dei più piccoli con diversi temi trattati, dal futuro della pediatria alle cardiopatie congenite, passando per il sistema immunitario, le corrette regole per l'alimentazione, le allergie, intolleranze e i vaccini. Grazie. 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 Grazie.